ragazzi vi tocca vedervi così in costume normale allora prendiamo gli accappatoi facciamo come pozzetto marchiati hotel oric ok vieni regia facciamo la vestizione direttamente in accappatoio certo avrò messo il tuo ok adesso siamo scesi in reception e c'è angela ciao lei è la massaggiatrice fisioterapista adesso ci spiegherà lei la sauna poi ci lascerà a morire nella pace più totale ti seguiamo ti seguiamo allora benvenuti negli spazi oric grazie sì non si funziona come l'estate è normale certo perché piscina in inverno ok perfetto io un tuffo me lo farò anche se non è caldissima non è troppo igienica ok quindi niente va bene va bene perché è d'inverno va bene poi qua abbiamo la jacuzzi ok infatti questo sarà il primo passaggio che farò poi qua c'è la mamma è già pronta che si è appannato ok aspetta che spagniamo ho dovuto togliere l'appannamento poi c'è la sauna la sauna e ancora è già pronta sì perfetto quanti gradi sono? la sauna 57 Fahrenheit ok poi questa è la 2 le pietre è la santa con le pietre del sale perfetto per il relax dopo sì per il relax ok quindi dopo qua mi relaxerò alla grande e poi ci sono le docce emozionali sì docce emozionale 1 è il secchio dell'acqua fredda ecco una roccia quella cosa fa per la parte che facciamo il massaggio e la visione della pia il tuo regno praticamente ok perfetto va bene allora adesso vi ho fatto vedere la situazione vi faccio vedere un po' di idromassaggio ma sicuramente quando mi sparo la mamma e la sauna metterò la telecamera sotto perché comunque me la godo proprio grazie grazie Angela grazie e pure a voi grazie ovviamente la spa l'abbiamo presa in esclusiva io e la regia quindi adesso mi faccio entro subito nell'idromassaggio adesso mi relaxo adesso mi relaxo vediamo vediamo senza ben devi Grazie a tutti. Allora, dopo l'idromassaggio, quindi dopo che ti sei massaggiato con l'acqua, la prossima tappa sarà la sauna. Dopo la sauna ci butteremo addosso l'acqua fredda, non lo so, vediamo. Dopo la sauna e la doccia fredda si va all'hammam, tutto questo nella sauna dai 10 ai 15 minuti, doccia fredda, si passa all'hammam per 10 minuti, dopodiché grotta di sale, relax totale. E forse, se non ho capito male, l'hotel mi omaggia di 30 minuti di massaggio. Adesso spiegolo perché ho detto quale sarà il proseguo. Devo fare una correzione, ho detto ovviamente una scalcionata, 52 gradi centigradi, quindi una sauna molto molto leggera, quindi i 15 minuti proprio facile, easy. Adesso piazzo la telecamera, me ne vado dentro e poi vi faccio la sauna. Alla fine l'ho presa io la telecamera. Alla fine l'ho presa io la telecamera. Allora 20, 15, 25 minuti di sauna a 50 gradi, adesso siamo a 46, veramente easy, ora a mano. Vado dentro e la pasta. Dopo 10 minuti di ammam, bella tosta, va bene, e doccia fredda, adesso chiamiamo qui, questo pulsantino, se vi serve fate lo screenshot del numero di telefono e ci facciamo portare qualcosa da bere e adesso ce ne andiamo a rilassarci nella grotta del sale, la stanza del sale. Himalayan soul. Già, mi si è messa lì, eh? Adesso con questo sfondo aspettiamo da bere e ci rilassiamo. Ci vediamo alla fine di tutto questo relax. Vi ho portato all'interno della spa dell'hotel Oric, me la sono goduta, mi sono rilassato, la sauna per me era bassa ma la mamma invece era bella, bella forte, bella strong. Dai mi rilasso, almeno 20 minuti. In attesa della bevanda, abbiamo quasi finito il relax, beviamo e poi ci rivediamo in camera, anzi vi faccio vedere appena arriva la bevanda e poi vado in camera. È arrivato. Bussa. Oh, grazie, grazie, grazie il cuore, grazie, perché tanto lo vediamo qua. Grazie ancora. Quindi adesso mi godo mezz'ora di massaggio e ero dimenticato nel diavolo prima e ci vediamo dopo in camera. Ragazzi, esperienza fantastica, doccia, cena e proseguiamo qua all'hotel Oric. Questa è la vista dalla stanza notturna, piscina e poi di fronte c'è il mare ovviamente di notte. non si vede, c'è con la telecamera, perché io lo vedo.